Nuova vita per la Biblioteca Federiciana di Fano. Il Comune e la Fondazione Montanari uniscono competenze e sinergie per donare alla città lo storico palazzo attraverso un progetto di recupero e ampliamento della storica biblioteca fondata nel 1681 dall'abate Domenico Federici. A curare il piano di lavoro è stato l'architetto di fama internazionale Mario Cucinella che questa mattina attraverso una conferenza stampa ha presentato il nuovo edificio diviso in quattro sezioni uno interrato per preservare i volumi l'entrata al piano terra mentre gli altri piani interni saranno a sbalzo quasi sospesi e sfalsati tra loro per culminare poi con una terrazza panoramica che punta verso l'orizzonte del mare adriatico. Altro elemento di questa struttura è il rivestimento in vetro in modo circolare che consente l'ingresso della luce tutta al naturale a beneficio di un maggior comfort visivo nei luoghi di lettura riducendo così quella artificiale come anche la ventilazione degli spazi. Il progetto finale è stato presentato all'interno della sala della navigazione Montanari. È un progetto di completamento di quello che è il sistema bibliotecario fanese che comprende al momento due biblioteche la mediateca che è la biblioteca moderna e di consultazione e l'altra per dire la verità ancora più importante che ha bisogno di urgenti ristrutturazioni. Ecco perché abbiamo fatto fare questo progetto dall'architetto Cucinella e come lei ha visto i risultati sembrano veramente eccezionali. La biblioteca che sarà a disposizione non solo di tutta la cittadinanza ma noi pensiamo che sia ad esempio anche per persone che vengono da fuori e non solo dall'Italia. Il progetto di recupero è volto a conservare l'edificio storico mentre il nuovo ampliamento sorgerà al posto di quello moderno già esistente dove verrà demolito per ospitare i nuovi piani bibliotecari creando così un intreccio tra la fanostorica e quella moderna. Un'opera di riqualificazione che significa rendere la città sempre più bella, sempre più attraente ma soprattutto sempre più ricca. Ricca non soltanto di opere ma anche di contenuti. Ciò arriva grazie ad una collaborazione importante fra la Fondazione Montanari e l'amministrazione comunale che parte da lontano che ha visto già un'opera che ha ottenuto un grande successo, la Memoteca Montanari e direi che con questa nuova opera che oggi parte sarà un circuito bibliotecario che porterà la nostra città alla stregua delle grandi città europee e questo ovviamente non può che renderci orgogliosi e la soddisfazione anche come sindaco è quella di dire che è una città che si sta trasformando, che sta cambiando il suo volto rendendosi sempre più ricca e diventando sempre più una città attraente. E quindi ecco, non posso nascondere l'emozione e l'altro elemento che mi piace sottolineare è questa visione del futuro che avviene attraverso una sinergia, una collaborazione tra pubblico e privato come avveniva, come è avvenuto anche nei momenti importanti della storia della nostra città.